Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa. Come sempre in apertura anche oggi c'è la cronaca con i funerali che si sono svolti ieri pomeriggio a Sant'Angelo in Vado e ai quali hanno preso parte centinaia e centinaia di persone. Vedremo questa notizia tra poco sui quotidiani locali. Intanto vediamo il santo di oggi, la santa è Santa Cristina, il sole è sorto alle 5.47 e tramonterà alle 20.42. Vediamo il tempo con la fotografia intanto del nostro osservatorio meteorologico che ci mostra una città che si sveglia anche oggi con il sole, una temperatura decisamente alta perché siamo già a 26 gradi con una buona percentuale di umidità, siamo al 61%, mentre il cielo per oggi sarà sereno o poco nuvoloso secondo le previsioni della protezione civile delle Marche. Non si escludono rovescia o temporali sparsi nel pomeriggio e nelle zone interne. Le temperature sono in lieve diminuzione, il mare è quasi calmo o poco mosso nelle ore centrali. Per la giornata di domani, sabato 25 luglio, cielo sereno o poco nuvoloso per debole attività cumuliforme sui rilievi nelle ore più calde della giornata. Le temperature in lieve aumento, il mare sarà poco mosso. Vediamo per domenica, c'è un po' di pioggia prevista soprattutto sulla costa settentrionale delle Marche. Infatti sono previsti rovescio temporali sparsi nella mattinata, più probabili nei settori interni. Il cielo sarà dunque irregolarmente nuvoloso, con venti di brezza tesa dai quadranti settentrionali, il mare sarà poco mosso. Per quanto riguarda la tendenza dei prossimi giorni, l'indicazione di stabilità per la settimana entrante con probabile rialzo termico a metà settimana, seguito da un calo ad inizio fine settimana. Adesso andiamo a leggere subito i giornali, il resto del Carlino su questo orribile delitto parla di Ambra o Ambera, questo è il nome di battesimo di questa ragazza, il nome corretto di questa ragazza, ragazza protetta adesso perché abita Lunano, la ragazza che avrebbe fatto scatenare tutto l'ira di Igli che poi secondo le indagini avrebbe ucciso, ha ucciso, perché poi ha confessato, ha ucciso il povero Ismaele. Ragazza contesa, Lunano vive giorni di tensione, li abita infatti la ragazza di 19 anni che avrebbe scatenato la gelosia di Igli, si continua intanto a cercare l'arma del delitto, oggi l'interrogatore davanti al GIP per la convalida dei due albanesi accusati appunto dell'omicidio. Il sindaco di Sant'Angelo Invado cerca di tranquillizzare, dice al massimo ho notato una certa rabbia legata però a quel preciso episodio. Dicevamo del coltello, ieri i carabinieri di Urbino al comando del capitano Francesca Baldacci hanno continuato le ricerche dell'arma del delitto, un coltello di lama corta che Igli ha gettato dal viadotto e di cui ha dato indicazioni, ma l'arma 18 cm in tutto di lunghezza ancora non è stata trovata. Igli non ricorda bene infatti trattandosi di un percorso tutto a curve, tutto di curve, il punto preciso in cui l'ha lanciato. Poi la cronaca dei funerali, il dolore muto ma dignitoso della madre. Il parroco dice non ci sono parole per alleviarlo, migliaia di persone dentro e fuori la chiesa, qui è scritto di Sant'Angelo ma in realtà non è la chiesa di Sant'Angelo, è Santa Maria extra muro, Santa Maria fuori delle mure insomma, fuori le mure. Comunque il Vescovo Tani nel suo messaggio, un messaggio scritto perché il Vescovo è ancora convalescente dopo una operazione, quella morte orribile ai piedi di una croce per un giovane che non meritava questa fine. E la cuginetta Gaia lo ricorda così, hai sempre detto che mi avresti difeso, il tuo animo gentile ti ha fatto fidare delle persone sbagliate, mi mancherai, ciao Ismaele. E sempre sul resto del Carlino vedete la foto della mamma, la mamma di Ismaele, il dolore muto, profondo ma dignitoso di Deborah Lulli. Poi il dolore degli amici e l'amico, l'amico Brunel che ha ricordato Ismaele, non era affatto un ragazzo isolato, al contrario era un carnevale contagioso nella sua allegria, non scorderò mai il suo sorriso. Era solare e allegro, altro che il ragazzo chiuso dice e aggiunge tre vite, tre vite, quella della vittima ma anche sicuramente quelle dei due assassini distrutte per nulla. Andiamo sull'altro giornale, il Corriere Adriatico su questo argomento, ucciso in croce come Gesù, le parole del Vescovo Tani, un'amica di Ismaele, sei come un angelo. Anche qui le foto della bar all'interno della chiesa, gremitissima ieri, tra l'altro la chiesa non era grandissima, la mamma ha scelto questa chiesa perché lì davanti abita la nonna, ma 17 anni fa abitavano la mamma e Ismaele, quindi avevano scelto e la mamma ha scelto quella chiesa e non la cattedrale, quindi per celebrare l'ultimo saluto e il funerale del figlio. Il messaggero invece, sempre su questa tragedia, Isma, ucciso con superficiale ferocia, nel messaggio inviato dall'Arcivescovo Tani un riferimento al Calvario, Monsignor Tonti invece, il parroco di Sant'Angelo che ha celebrato l'esequie, gesto infame e crudele contro un ragazzo fragile. Gremita già un'ora prima la chiesa di Sant'Angelo invado, la mamma straziata dal dolore, accarezza a lungo la barra bianca. Il padre di Igli invece, l'assassino, chiedo perdono per mio figlio, la mamma di Ismaele, non è questo il momento, non è questo dunque per ora il momento del perdono, la fidanzata di Meta aveva tentato in vano di rassicurarlo. L'avvocato a sole non stava fuggendo, dice Igli era preso dal panico, quando è stato fermato stava tornando a Urbagna, non sa perché ha ucciso il coltello, era un ricordo del nonno. Cambiamo argomento e adesso apriamo di nuovo il resto del Carlino, la sanità, ci sono le nomine in questi giorni, Marini all'Asur, Ricci resta lì. Marche Nord, il direttore confermato fino al pensionamento, lunedì giunta regionale, indicherà i vertici aziendali. Intanto per quanto riguarda l'area vasta, quella che ci interessa, l'area vasta 1, sarebbe confermata la partenza di Maria Capalbo, avviata verso un incarico in regione, anche se non si esclude un suo ritorno all'azienda Marche Nord. La pagina di Fano invece, Benedict è ricoverato in rianimazione, il racconto dei bagnini che lo hanno soccorso. Benedict è il ragazzo nigeriano di 22 anni che mercoledì scorso ha rischiato di annegare a largo dell'Ido 2 che è stato salvato prontamente da questi due bagnini. Poi a centro pagina invece è tregua tra il comune di Fano e i commercianti, incontro con il sindaco Seri, confermata la protesta ma revocata la richiesta di dimissioni del sindaco. Il mio spasso con gli altri, 50 ragazzi al campo missionario, è un'esperienza unica raccontata al Carlino, un'esperienza unica di fede e di servizio. Poi la notizia di un'opera, un'opera del maestro Sergio Carboni, un acquerello intitolato Con il cuore nel mare, che è un'opera dedicata all'impegno della Capitaneria per i 150 anni del corpo delle Capitanerie di Porto che si sono svolte ad Ancona. Chiudiamo il resto del Carlino, torniamo sul Corriere Adriatico, anche qui sulla pagina di Fano la tregua tra il sindaco, tra il comune e i commercianti, commercianti che sono arrabbiati un po' per come è stata gestita questa estate, priva di eventi e di iniziative. Il sindaco propone tavoli mensili, un impegno per la concertazione, ma i commercianti confermano la sfilata di protesta per la giornata di lunedì. Anche il presidente di missionario del comitato, quello del centro storico, apriamo il centro, l'incontro dice è stato positivo. Il bastione Sangallo invece andrà ad un gruppo di associazioni. Il monumento del Cinquecento tornerà ad essere fruibile per la città, i vincitori del bando cureranno la manutenzione. Poi ancora dal Corriere, terra e i giovani con sconto, firmato un protocollo tra il comune e le associazioni per l'agricoltura innovativa. Mentre a centro pagina, guardate qui, una foto scattata in corso Matteotti, a sinistra Leandro Roscini con Daniele Sanchioni della CIA, che regge in mano un maxi pomodoro da un chilo e mezzo. Guardate qui, un chilo e quattro, questo è il peso giusto. Poi il messaggero, la pagina delle Marche, Cantone boccia la società della Fano Grosseto, Ceriscioli, il presidente, solo illusione, l'autority anticorruzione, non si possono trovare i fondi così, il governatore annuncia che annullerà Centralia, perché farla è stato un errore. Minardi, Renato Claudio Minardi, dice mi dimetto, ma il PD gli chiede di aspettare. Sul caso Zaffiri si punta sulla moral suasion. Il consigliere del PD, Minardi, ieri mattina aveva deciso di dimettersi dallo scrano di vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, facendo così decadere anche il leghista Sandro Zaffiri, protagonista di una brutta pagina politica a causa delle frasi violente contro il prefetto di Roma, Gabrielli. Sempre dal messaggero a Pesaro, a Dobbi, per il palio dei braceri, non solo bandierine, ma anche la vernice. I preparativi per la festa dei braceri dividono la città, a Villa San Martino dipinti i cordoli di una rotatoria. Marche Nord, indietro non si torna, sanità, strada, scuole. Il governatore Ceriscioli ha incontrato a Urbino gli amministratori locali affrontando i temi più urgenti. Incidente diplomatico con il sindaco di Pergola, che non ha potuto parlare perché il suo intervento non era in scaletta. Chiudiamo con la pagina di Fano, invece, Comune Operatori, treguarmata. Il corteo di protesta è confermato. Lunedì, dunque, manifestazione in centro storico a Fano per sollecitare più collaborazione. Il sindaco Seri e l'assessore Marchegiani si impegnano per un maggior confronto. Negozianti ed esercenti lamentano la scarsità di iniziative e il taglio del carnevale estivo e chiedono minor rigidità sul fronte delle sanzioni. La politica locale, Mattio Miccioli, di 22 anni, nominato coordinatore di Forza Italia Giovani. E poi la segnalazione di un tombino al foro Boario, un tombino che si è letteralmente sgretolato e che quindi è diventato pericolosissimo. Al foro Boario si sgretola la copertura di un tombino, poi per fortuna è stato subito segnalato con i birilli. Insomma, è tutto per l'informazione dei giornali. Noi ci ritroveremo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti.